Gormiti! Schiera gli eroi della nuova serie! Sono invincibili e sono pronti a sconfiggere le forze del male! Insieme ai personaggi trovi il codice per sbloccare i potenti Gormiti dell'anno! Vieni a scoprire l'isola di Gorm! Esplora i luoghi dei guerriari più forti e immattibili dell'universo! Nell'isola di Gorm trovi l'esclusivo Lord Helios in versione dorata! Gormiti seconda serie e isola di Gorm! Anche in edicola!